Il 2017 è stato un anno di fuoco in Toscana, 851 incendi che hanno mandato in fumo più di 4.000 ettari, roghi due volte e mezzo alla media degli ultimi 5 anni e quattro volte tanto l'estensione del terreno bruciato. La siccità non ha aiutato. Luglio e agosto sono stati due mesi difficilissimi per i boschi della Toscana. Il caldo e l'aridità prolungata hanno infatti reso le foreste più vulnerabili. Complessivamente, per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, la regione toscana investe annualmente circa 9 milioni e mezzo di euro, di cui il 60% va in prevenzione e il 40% è lotta attiva. È stata un'annata difficile, complicata dovuta alla siccità e abbiamo retto bene l'urto anche se i danni sono stati notevoli. Per questo ne abbiamo ragionato in giunta, abbiamo affrontato il tema. Il presidente Rossi in testa ha voluto mettere in campo una serie di iniziative di prevenzione che riguardano una serie di territori toscani, quelli più esposti a questo tipo di fenomeno, nel quale attiveremo con soldi comunitari della misura 8.3 del piano di programmazione 2014-2020 una serie di interventi che vanno dalle piste parafuoco, che vanno a una gestione attiva del patrimonio forestale, a una serie di interventi e di azioni che dovranno permettere una migliore gestione del patrimonio forestale e anche tutte quelle condizioni di un migliore accesso alle aree boscate. Tutto questo serve chiaramente per intervenire in maniera preventiva e per fare in modo che a fronte di incendi possiamo tutelare meglio il nostro patrimonio forestale. La Toscana certamente deve fare conti con una novità, gli incendi sicuramente si ripetono di anno in anno e sono legati anche all'andamento del clima, ma quest'estate 2017 ha visto veramente numeri particolari anche perché purtroppo abbiamo perso anche molte migliaia di ettari che costituiscono il polmone verde della nostra regione, la regione più boscata d'Italia, quindi intanto abbiamo bisogno anche di ricostituire un patrimonio che si è perso nell'arco di poche settimane, ma abbiamo bisogno anche di immaginare intanto una pianificazione che ci consenta e questo se ne sta occupando l'assessore Remaschi con la propria struttura della forestazione, la realizzazione dei cosiddetti sentieri tagliafuoco, quindi con una rete che però sia conosciuta, definita e pianificata, quindi non improvvisata. Tra le altre iniziative di prevenzione la regione vieta per i mesi estivi l'abbruciamento dei residui vegetali proprio per arginare questa piaga nella regione più boscata d'Italia. Stiamo collaborando con gli enti deputati che sono le unioni dei comuni e i comuni che hanno la delega specifica della forestazione, sono stati presentati tutta una serie di progettualità di interventi su questo tipo di aspetto, stiamo reperendo delle risorse perché laddove ci sono percorsi di fuoco c'è stata una doppia problematica, una di carattere ambientale perché quando si struggano molti ettari è come sono stati distrutti, 4.000 in totale, circa 2.100 di superfici boscate, c'è sicuramente una ferita che si apre. Dobbiamo evitare che ci siano ulteriori danni con i cambiamenti climatici, con le piogge legati chiaramente a problemi di dissesto idrogeologico, quindi dobbiamo intervenire su quei terreni per poterli ripurire, rimuovere diciamo le alberature che hanno necessità di essere tolte, togliere diciamo tutti quegli aspetti di dilavamento che derivano appunto dagli eventi atmosferici e chiaramente fare una serie di interventi su tutto il territorio toscano, in tutte le aree. Ma il fuoco è stato frenato grazie al lavoro della macchina regionale, dipendanti della regione, gli operai forestali, comuni, unione e parchi e di cui la regione paga le spese, poi il volontariato antincendi boschivi e anch'esso coordinato dalla regione. Senza l'eccezionale spiegamento di forze messe in campo, i danni sarebbero potuti essere di gran lunga maggiori. Si tratta di una forza che conta complessivamente 600 mezzi terrestri e 4.800 uomini operativi addestrati, di cui 4.200 volontari, una scuola regionale praticamente unica in Italia, a Monticiano, Siena, a cui si rivolgono anche da fuori Toscana. E poi 10 elicotteri della flotta regionale che tra luglio e agosto hanno effettuato 1.423 ore di volo. Grazie al lavoro dell'AIB Antincendi Boschivi e dalla preparazione del suo personale formato al centro Lapineta di Tocchi a Monticiano, gli incendi nei boschi della Toscana hanno vita breve. Nell'80% dei casi, infatti, le fiamme vengono fermate prima che raggiungano un ettaro di terreno. Il centro antincendi di Monticiano è composto da tre aule didattiche, una di informatica, ci sono anche 35 posti letto, una mensa, un eliporto, un laghetto, un chilometro di strade forestali e ostacoli per i corsi di guida. Nel centro antincendi ogni anno vengono formati 1.300 operatori. La Toscana da sempre fa vanto di avere personale formato, abbiamo un centro di formazione molto importante nella provincia di Siena, voglio dire che da sempre assolve a questo tipo di ragionamento, ogni anno passano da lì oltre 1.000 persone che vanno a fare corsi di aggiornamento e su questo aspetto la lotta agli incendi ha un approccio diverso. Ci serviamo del mondo del volontariato, oltre che dei nostri operai forestali, il variegato mondo del volontariato, oltre 4.000 persone e poi la collaborazione con i vigili del fuoco e con i carabinieri forestali perché dall'inizio di questo anno così si chiamano. Il cuore dell'intero sistema è la sala operativa unificata permanente, la SOAP, gestita dalla regione con un servizio H24 per 365 giorni l'anno. La sua sede è a Firenze. La SOAP coordina gli interventi in ambito interprovinciale, si accorda con i centri operativi provinciali, tiene i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile, in particolare per l'invio dei mezzi aerei. Come settore ambiente noi interveniamo con la parte della protezione civile che offre attraverso la sala operativa un coordinamento fra tutte le forze in campo. Anche in questo caso per l'antincendio una parte fondamentale ce l'hanno i volontari, le forze appunto del volontariato che operano in tutti quei campi dove fuori da centri abitati in particolare dove intervengono i vigili del fuoco ma in molti casi di cosiddetta interferenza dove ci sono abitazioni ma all'interno di un contesto boscato e quindi credo che insomma abbiamo dato una bella risposta. E nell'estate terribile degli incendi in Toscana la macchina regionale è stata impegnata a giorno e notte, tra i roghi più violenti quelli di Pian Castagnaio, Montale, Castiglione della Pescaia e Pieve Fosciana. In questi territori si sta lavorando per procedere con una serie di interventi per il ripristino delle zone mangiate dalle fiamme. E che nel corso dei prossimi mesi troveranno esecuzione per ripristinare una condizione accettabile rispetto al nostro patrimonio forestale di cui noi siamo orgogliosi e vogliamo mantenere questo grande patrimonio, valorizzarlo perché è uno dei segni distintivi della nostra regione.